Eccoci qua ragazzi, sempre con supporto di Snugget Non è vero Ok, primo dungeon L'arra dura, piena di slime E ha smesso di piovere Eh beh Ho degli slime Beh, con la spawn di amante li faccio fargli due colpi Poi c'ho un arroco senza frecce Aia Non spawnano più nemici? Ah, eccolo là Non si vede il cielo, è fighissimo, è tutto contro viola È tutto contro Morto Non si sa perchè fai così Ho un'armatura di leather Che poi l'armatura in questo gioco non diminuiscono la resistenza Inoltre che lei le hai addosso e basta Eh? Cioè vuol dire che sei immortale forever? Intendo che l'arma, no Dimentichiamo entrare difesa al massimo Ah ok Cioè tipo hai dieci magliette e rimangono dieci e non cavano Esattamente Dimentichiamo entrare tipo Di uno, ti do uno in meno, cazzo so io Ok Ok ci sono degli scheletri molto fututi Aia Morite Gli scheletrons Te li uccisi, aia Uccisi Ma anche delle nuove frecce Tre frecce Allora Master Chief Ok Master Chief Ebbene Se c'è lui ci sono tutti Prima importante per parlarmi No Non ti voglio parlare Stroke Cosa vuoi? Ciao Stroke Voglio uccidere Herobrine Va bene fallo Non lo puoi Non lo potrai mai battere con le armi che possiedi Neanche una atomiche di diamanti può fermarlo Ha rapito i miei amici E poi Insomma Deve ucciderlo Deve andare a fangu In pratica Insomma Questa cosa dice che non abbiamo possibilità di vincere Avremo tanto una Non avremo mai una felice fine No Non può Devo ucciderlo Ce la farò Sono Powa E fu così che finisse la mappa Perché si butta al suicidio con un coglione No Ok ha detto che Master Chief mi vuole aiutare Mi regala tutto quello che è nella sua cassa Ho un cassa? Adesso vedi che non ha niente Anche i suoi soldi mi regala Ma dammi la tua armatura finocchio Anche un Non so Una tua arma Un fucile Hai finito di parlarmi Vorrei anche andare a fare in culo E beh Thank you Bob Ti chiamo Bob Ok ha 150 euro Chiamamoli euro Questi soldi Ha 5 di olio Una chiave d'oro Una spada di roccia E una bistecca Ok Sto tornando indietro se te lo stai chiedendo Che cazzo mi frega che stai tornando indietro? Io so che sto giocando A cosa sto giocando a proposito? Eeeh Ho un gioco molto porcellona Quanto non ho Una lol Ma perchè lol è un gioco molto porcellone E' vero E cazzo potevi sapere che venivo anch'io E stavi mangiando strozzo Avermo con di finito abitami Sai che registrano coglioni Lo so E allora Non avresti fatto questo video E quindi te Spettatori non avrebbero visto Non mi avrebbero sentito parlare Perchè io magari in quel momento non c'è Esatto Però se io c'ero comunque mi avrebbero sentito Are di servizio Andiamoci Ok Random game from Canada Sono inutile NPC Un inutile NPC Un inutile NPC Un inutile NPC Un inutile NPC Qua c'è una cassa con dentro Tutta la merda che ti puoi immaginare C'è fango e merda, fango e merda, fango e merda Allora c'è un pesce Cocoa Beans E le cose dei polipi E nove di redstone Tre mattoncini Due slimeball Tre piume Cosa ti sembrerebbero tutte ste cagate? Non ne ho la più palida idea Vabbè io l'ho presa Qua non posso entrare Qua c'è un quadro Aspetta, questo quadro mi puzza Forse c'è qualcosa di detto questo quadro Yeah, trovo un posto segreto E dentro questa cassa qua giù in fondo c'è Mezzo cuore Pantaloni E una spada di legno Ok Ok Mettiamoci i pantaloni addosso Altrimenti siamo fottuti Altrimenti sei nudo Esattamente Ok andiamo Allora dove dovrei andare adesso? Ok si è aperta quella strada la Però vorrei andare a comprare qualcosa io Poi anche la chiave d'oro Esatto Ok complete Ho raggiunto la zona del negozio Qua è pieno di negozi Ecco Luke che entra mentre registro E vai Tanto per cambiare Sempre una gente che mi supporterà Allora Il negozio Porca miseria Ehi si porca miseria il coso Si è sentito qualcosina urlare No tranquillo Tanto non la taglio le parti Allora c'è il negozio di due emo Questo si chiama C'è amico Ho sparato una freccia in faccia Ti dispiace? No Allora il primo emo si chiama Jake E l'altro emo si chiama John Nick? Si? John e Jake Eh I due emo John e Jake Ok qua c'è un negozio Ok quindi se io gli vendessi Del wool nero mi da 15 euro Se gli do un cd verde mi da 25 euro Se gli do una leather tunic mi da 15 euro E se gli vendo una zuppa mi da 20 euro Eh Ah ecco cosa serve l'ink di prima Con il wool iniziale Ah si si Ti fai i soldi Ok vendiamo 15,30,45,60 euro Poi vendiamo anche il cd verde Ho 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 Io ho 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 E la leather tunic Tanto me ne compro una nuova Ok ho esattamente un fottio di soldi Eh beh si un fottio di fottuto fottuto Allora vediamo qua Poi cosa c'è qui? De allimo Eh debunk Allora vediamo un po' Ok qua posso Mettere 15 euro E ogni 5 minuti mi creerà 5 euro Ehhh Bastardissimo Come Come truccare i soldi Ma facciamo dai tanto per 15 euro Emo ti arrestano Ok qua c'è un altro negozio Di un altro emo Emo man si chiama proprio Ok Qua mi serve l'oggetto Per spostare i blocchi Che io ancora non ho Cosa è qua? Wipeout arena John is awesome Allora se ho capito bene Questa qua è una specie di Sfida Mi danno 100 euro se vinco la sfida Ce la posso fare secondo te? E se perdi cos'è che succede? Niente Ma perché non muori porca troia? Ok allora Questo trucchetto qua mi Fa girare altamente i coglioni Non cadrò, non cadrò, non cadrò, non cadrò Non cadrò, non cadrò Non cadrò, non cadrò Caduto Sono salvato Ota, ota, andiamo Sono morto Sono morto Ok ricominciamo Tanto non ho perso niente Olè, olè, olè Ok ci sono Ah, sono morto per la seconda volta Seconda volta ce la potrò fare? No Perché porti sempre sfiga? E' troppo incapace nel parkour Allora, penso che sia parkour Visto che mi tiene a dire che cadi Ok, ho mezzo cuore Salto Non so, non ce l'ho fatta Salto Ok, ce l'ho fatta Avesse è difficile Salto Ok Ultimo salto ce l'ho fatta Salto E ce la fa E vinco, cosa vinco di bello 100 euro Più full armatura d'oro E spada d'oro Boh dai, non male Una full armatura d'oro Yeah, sono troppo cool Però non ho cuori Ok, allora adesso dovremo andare nella seconda zona Da quanto è che registro? Penso 10 minuti 10 Va Vado vicino a te Ti tengo il tempo se morisci So che ce l'ho Ok Aspetta, per prima vado a prendere Qualcosa al negozio Visto che sono pieno di soldi Allora, vado a comprarmi un po' Perché c'è un altro arco in vendita? L'ho già preso prima Vabbè Non me ne fotte Allora Mi compro un cuore nuovo Quindi ho 6 cuori Poi Vediamo un po' Uno scudo potrebbe tornarmi utile Per parare le frecce Ma sì, dai lo compro Poi, 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 poi Wolf non lo voglio Il boomerang mi fa cagare il cazzo Una pistola Nah Ok Adesso andiamo di là Allora The graveyard Do not pass PS You will need a bomb Vabbè Fa ancora le bombe Le troverò dentro Sicuramente Ok ragazzi È la prossima parte Dove andremo avanti Saluta Snake Vero Ciao